Rieccoci qui, è da un pochino che non pubblicavo video, sono stato super impegnato col Cerbero e soprattutto con i Boscar. Purtroppo non torniamo con un prodotto che possiamo definire cinema, assolutamente no, sarebbe un complimento. Morbius, che meraviglia, domani farò un video su Paul Thomas Anderson, voglio tornare con la rubrica Gli Imprescindibili e parlarvi di Boogie Nights, magari dirò anche qualcosa su Licorice Pizza, ma voglio prima rivederlo una seconda volta in lingua originale per farmi una recensione perlomeno degna di rispetto, dato che sono riuscito a vederlo solo doppiato e non posso valutare la recitazione dei protagonisti. Allora, non voglio dire che questo film è terrificante e abominevole come Venom, Venom mi ha fatto anche incazzare la folia di carne, questo mi ha semplicemente sconfortato, cioè sono rimasto veramente in una sorta di limbo tra la sonnolenza e l'incomprensione. Cioè lì sulla poltroncina del cinema, che ogni 7-8 minuti mi chiedevo, ma perché? Perché? Cioè, ci troviamo di fronte a un film che sembra Dracula Untold con una spruzzata di Marvel, tra l'altro questo è Sony, come le due merde di Venom precedenti, e veramente io a un certo punto arrivato alla fine mi sono chiesto, ma questo prodotto che senso ha? Nessuno, tra l'altro ho l'impressione che questi ultimi prodotti della Sony siano gestiti da un punto di vista produttivo e artistico completamente a caso, perché ci sono delle forzature narrative che sono molto spesso conflittuali con altri elementi e il film sembra montato a caso, cioè ci sono sempre problemi di ritmo, ci sono sempre problemi di cose che non vengono spiegate in sceneggiatura e che tu hai la profonda percezione che sia stato tagliato qualcosa. Velocizzazioni improvvise, a fronte magari di un ritmo anche sostenuto, anche lento come questo. Scene d'azione totalmente inutili per portare avanti la trama, ma che sembrano un riempitivo. Cioè, per tutti e tre i film, cioè Venom, Venom alla furia di Carnage e questo Morbius, tu veramente hai l'impressione di trovarti davanti un prodotto che è stato montato, rimontato, rimontato, rigirato centomila volte senza una precisa direzione. E' questo quello che non capisco, cioè non c'è un focus effettivo, non c'è un goal all'interno di questi film, no? Cioè, parto da un punto A a un punto B, voglio dire questo, costruisco la narrazione in questo modo, no? Ho la profonda percezione che siano film costantemente modificati in corso d'opera per assecondare determinate esigenze. Mettiamo un trailer, il pubblico dice questo, allora sai che c'è, modifichiamo. Questo produttore rompe i coglioni perché c'è troppo sangue, tagliamo. E quindi mettiamo una scena violenta, però senza il sangue. È un film che parte con dei presupposti più adulti, magari, su un personaggio abbastanza brutale come questo Morbius o come Carnage, però non c'è sangue. Questo è un altro problema, ovviamente. Al di là del comparto tecnico, adesso ci arriviamo, scena d'azione, ce la sbrigiamo in fretta. Scena d'azione veramente imbarazzante. Fotografia è ridicola, non si vede un cazzo per tutto il film. E sì, se vogliamo attaccarci al discorso, vabbè, l'oscurità, le tenebre, è un personaggio di questo tipo. C'è anche una citazione a Murnau, perché la nave, a un certo punto c'era una nave all'interno della narrazione, adesso non sto a dirvi che viene chiamata così. Però, ragazzi, scena d'azione di questo tipo sono veramente una cosa che neppure è al primo anno di cinema sperimentale, cioè di scuola sperimentale, perché è proprio il classico espediente per non fare una scena d'azione diretta al bene. Cioè, metti tutto al buio e ciao. E quello che succede, succede. Basta che c'è cacciara. E le scena d'azione sono una completa cacciara. Questa velocizzazione, questa scia pestilenziale che si porta presso Morbius e sangue. Non si vede e quando si vede potrebbe essere qualsiasi altra cosa. E parliamo però di un vampiro che teoricamente è quello succhia, no? È brutale, no? Graffi, cose veramente che dovrebbero perlomeno rievocare degli scenari un po' orrorifici. Niente di tutto questo. Ci sono sempre questi protagonisti cattivi, che però cattivi non possono essere perché sono i protagonisti, esattamente come per Venom. Il villain di questo film viene interpretato anche decentemente dall'attore, ma il personaggio non esiste, non c'è scrittura dei personaggi. Quindi io non so come valutarlo questo film. Vedete che sono in difficoltà, ragazzi. Cioè, i personaggi non sono scritti. Sembra che manchino dei pezzi. C'è anche un personaggio spalla, una sorta di tutore, diciamo così, che appare all'inizio, poi anche alla fine, ma non si sa per quale motivazione si è messo lì. Evidentemente c'erano altre scene importanti con lui che sono state tagliate. Ci sono due ridicole scene post-credit che veramente ti fanno venire voglia di sgozzare il tuo vicino di poltroncina in sala. Il film sembra essenzialmente un mix tra Dracula Untold e Van Helsing. Questo è. Cesto Morbius, Jared Lido, premio Nobel, un grande mente scienziato incredibile che cerca di sviluppare una cura con roba di pipistrello per creare degli anticoagulanti naturali all'interno del corpo, innestando queste due razze, diciamo, la razza di pipistrello e la razza umana, e diventa un vampirone. Questo è il film. Inizialmente uccide delle persone perché deve bere il sangue, lasciamo perdere poi la sceneggiatura, nel senso che la polizia vede dieci contrabandieri morti, i contrabandieri macedoni morti, e nessuno dice un cazzo, vabbè ma tanto questi avranno fatto dei reati, quindi chi se ne frega, e si incazzano solo quando muore un'infermiera, eh no, quella no. Scena delicanti, nel senso, a un certo punto viene arrestato questo Jared Lido, loro vedono che è effettivamente un vampirone, perché lo inseguono e vola essenzialmente, fa balzi giganteschi, fa questa faccia terribilmente mostruosa, e loro tranquilli, arriva quello con l'acqua santa. Cioè non c'è neanche un minimo di reazione da parte di un corpo di polizia, che teoricamente è abituato a criminali normali, vedono un vampiro, dicono, vabbè dai, ma che problema c'è, portiamolo in centrale, facciamo gli due domande, cosa succederà mai. Ok. Quindi questo, prova, prova, diciamo, a costruire una sorta di cura, per questa malattia, a quanto pare incurabile e degenerativa, ci riesce il problema che diventa un vampiro che ha bisogno di sangue, si nutre con questo sangue artificiale, dovrà affrontare un altro vampiro, che però invece sceglie di essere un cattivone, divertirsi, perché effettivamente ha un super fisico, e niente, ed è potentissimo rispetto a prima. Questo va. Questo è il film. Ditemi voi, nel senso, poi, per carità, magari da una trama così, da una trama banale, da una trama semplice, si possono ricavare delle cose interessanti dal punto di vista cinematografico? Assolutamente no, non c'è nulla. Nulla. Veramente, fotografia devastante, regia tremenda, soprattutto nelle scene d'azione, ma sbagliano anche dei campi, contro campi, delle cose banalissime. Recitazione salvabile, ma il problema è la scrittura proprio, la scrittura dei personaggi, quindi non pervenuta. C'è Morbius, che effettivamente, sì, è un personaggio dolente, è un personaggio apatico, ma porca puttana, ma lo spettatore non gliene frega un cazzo di questi personaggi. Cioè, io capisco l'apatia, però tu stai là e dici, vabbè, ma a me che cazzo me ne frega se muore sto storpio? Cioè, alla fine divene questo come pensiero, purtroppo, ma è colpa del film chiaramente, no? Che non costruisce bene i personaggi. e poi c'è una tizia messa lì, per questa pseudo storia d'amore che non viene portata avanti, nulla. Qualche riferimento al Marvel Cinematic Universe, film che probabilmente si basa, come in diversi altri casi, sulle scene finali, sulle scene post-credit, e come al solito in sala, oh, oh, oddio, c'è sto personaggio, wow, non me lo sarei mai aspettato. Se non sbaglio, ho anche spoilerato nel trailer, mai evito di dirlo, perché non mi ricordo, e quindi noi dovremmo accontentarci di questa merda. No, io veramente ovviamente sono sconfortato, non ho neanche la forza per incazzarmi, come per Venom, che perlomeno dai, è talmente ridicolo che a un certo punto prendi per il culo tutti. No, questi sono personaggi proprio insignificanti, cioè una struttura narrativa insignificante, una regia che non esiste, una fotografia che non te fa bene un cazzo, a un certo punto dici, ma che ho visto un film? No, probabilmente sono venuto qui per spendere un po' di soldi, e quindi volevo condividere con voi questa bellissima esperienza, almeno non ho del tutto buttato nel cesso questi soldi del biglietto e delle Fonsis, perché a un certo punto durante il fine primo tempo è passato nuovamente il ragazzo che portava le cibarie dopo le nuove disposizioni del Covid, quindi si può rimangiare all'interno della sala e mi sono detto sai che c'è? Per arrivare fino alla fine di questo aborto ho proprio bisogno di carboidrati. Questa è una piccola citazione abbastanza culta. Ci vediamo nei prossimi giorni, spero anche domani o dopo domani.